Beni per oltre 20 milioni di euro, riconducibili a un commercialista ritenuto vicino al clan camorristico dei Mallardo, sono finiti sotto sequestro tra Campania e Lazio. A termine di indagini coordinate dalla Direzione Ristrettuale Antimafia di Napoli, la Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito tra la Campania e il Lazio un provvedimento di sequestro di un ingente patrimonio stimato in oltre 20 milioni di euro, ricondugibile al noto commercialista ha provito l'Alfredo, classe 69, e al suo nucleo familiare. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziare a partenopeo hanno sottoposto a sequestro tra le province di Napoli, Caserta, Frosinone e Latina, 89 fabbricati, 10 terreni, 8 quote societarie, 2 autovetture e numerosi rapporti finanziari. A provito da Domenico, padre di Alfredo, indicato da numerosi collaboratori come il tesoriere, veniva considerato un esponente storico del clan Mallardo. Il figlio Alfredo, occupandosi della gestione delle varie attività imprenditoriali riconducibili al clan, avrebbe assunto l'incarico di commercialista delle varie attività imprenditoriali, soprattutto nei settori immobiliari ed edilizio. Dalle indagini nel corso degli anni sarebbero emersi elementi determinanti in merito alla partecipazione di Alfredo a sodalizio criminale gemone nella zona di Giuliano in Campania. Avrebbe anche svolto un ruolo attivo nelle attività estorsive poste in essere da soggetti affiliati all'organizzazione criminale. A conclusione delle numerose attività investigative eseguite nei confronti del clan Mallardo è stato condannato a sette anni di reclusione per estorsione dalla quarta sezione penale del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa nel settembre 2020. L'operazione si inquadra nell'ambito delle attività abitualmente condotte da parte della Guardia di Finanza finalizzate all'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati da parte delle organizzazioni criminali. Il servizio d'Erno ha colpito un imprenditore professionista legato al clan Mallardo che nel corso del tempo ha avuto il compito di favorire l'inserimento dell'organizzazione criminale nell'ambito dell'imprenditoria lecita. È stato ricostruito completamente il patrimonio dell'imprenditore professionista suo e del suo nucleo familiare e sono stati posti sotto sequestro beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie per oltre 20 milioni di euro.